Le fiaccole della Cereria Migone che festeggia 130 anni di fondazione e che fu una delle principali industrie che il 4 novembre 1966 fu gravemente alluvionata in piazza Pier Vettori via Pisana illuminano queste 50 fiaccole donate dalla Cereria Migone il monumento agli angeli del fango in piazza Poggi dove il comune di Firenze insieme agli allievi del 59esimo corso sotto ufficiali dei carabinieri hanno deposto una corona in memoria di tutti gli angeli del fango che oggi non ci sono più. L'opera del maestro Galeazzo Auzzi scomparso a gennaio 2016 è stata messa dall'amministrazione comunale nel novembre 1976 in occasione del decennale dell'alluvione di Firenze. Il monumento è stato restaurato nel 1996 dall'associazione Firenze all'uomo è stato continuato a fare un'uomo che è fermato e che si è passato l'uomo a profondito di un'uomo. Grazie a tutti.